Musica OnlyCraftBeach e tutti quanti ragazzi sono Mesebossa e sono tornato con la 25esima parte del mio respiro di Pokémordefoglia Allora, cosa che potete non dare subito è che ho ottenuto il saluto che ho deciso... Mi sono riaffezionato in quest'ultimo periodo al mio saluto Mi avevo fatto sentire un nuovo saluto che avevo in mente ma proprio non è stato neanche largamente cagato secondo me Neanche di striscio Quindi ho deciso di tenere questo saluto che mi ha accompagnato per un anno intero e quindi mi sembrava brutto lasciarlo per strada così poverino E in più mi hanno fatto un'altra intro che finora tengo questa, cioè quella vecchia E intanto cercherò di fare la intro nuova con scritto Bezebossa e i nuovi giochi E vi metterò a confronto la mia intro nuova con questa intro che mi hanno fatto, che ho ricevuto oggi qualche ora fa Quindi, allora, direi di poter andare su Nero 2, troppo Nero 2 sto giocando, troppo Nero 2 in testa ragazzi Allora, potete vedere che ho 60 Pokémon nel Pokédex Quindi posso andare dal Professor Oak Parlare con lui C'è, ecco, 60 Pokémon presi Giudizio, vabbè, giudizio non si fa un cazzo Ecco, vedete, ma questo è eccellente Bezebossa è un favore da chiederti Sì, ci sono Pokémon rari accanto Arriva Bill No, Gary, che cazzo dico Ci aggiorna il Pokédex E c'è lui, cioè il gioco ci predispone, gli predispone di dirci di andare a Primisola Allora noi Ah, mi sono livellato un po' la squadra, soprattutto Dodrio Perché, non chiederti perché È l'unico che riusciva a battere la Lega Adesso direi di poter utilizzare Charizard E i Dodrio aveva il condivido di esperienze Quindi, volo di Dodrio E andiamo ad Aranciopoli Da cui prendiamo il traghetto Eccolo qui Opla Sì, andiamo a Primisola Ok Andiamo nel centro Pokédex E parliamo con lui Che non mi ricordo come si chiama Celio, giusto? Sì, deve sistemare questa centralina E deve trovare una gemma Che non mi ricordo se è il Rubino o il Zaffiro Però si trova per di qua Allora Ah, intanto predisponiamoci con repellenti Ok Che non voglio avere brutti incontri Allora, se non mi sbaglio Si va per di qui Che, mi ricordo che c'erano alcuni del Team Rocket Eh, sì, del Team Rocket Che blocavano una strada Lì c'erano le terme Per di qui Vi ricordate ho battuto tutti Quindi Montebraccia Eccoli qui Dai andiamo a cercare il tesoro Aprendo qualcosa O teniamo un magazzino Intesi Qual è la parola per il magazzino Rocket? Ci sono due La prima è un'Ortica Ad Articuno E la seconda è Un'Ortica Ad Articuno Sembra un Scioglilingua Vabbè andiamo con Dragon Sì, Jarizard E lui ha un Cubon Un Cubon Lanciafiamme Ok Andiamo a 54 Ira di Dragon No, non mi interessa Marowak Questo è già più forte Mi sa che non basterà Lanciafiamme Uh, che culo Bene, dai Deve essere la difenza Di livelli E battiamo lui Oh, qui c'è un Rattataxi Che potrei usare Atacodala Perfetto Così non sprechiamo Lanciafiamme Raticate Potrei usare ancora Atacodala Perfetto Senshrive Atacodala No, merda Lo finisco con Fra Vaffanculo No, non falli Ecco Adesso Fra Non fallirà sempre Oh, che culo Nonostante le Turbo Sabbia Non ha fallito E ora lanciafiamme Perfetto Ok Che sconfitta Andiamo dentro Montebracce Ok È una vita Che non faccio Questo pezzo Di verde foglia Ragazzi No Ah Appena finito Repellente Subito Ma proprio mia Mi sono Mi sono proprio Affezionati I pochi Conservatici A me No Mi serve Forza Chi è che L'aveva Kingler Giusto Ok Qui non devo Usare l'acceleratore Ok Perfetto Qui mi serve Ancora Forza Giusto Devo riparlare Con me stesso Per di No Ah si Per di qua giù Giusto Due strade Merda Qual è quella giusta Questa no Ah c'è Per così Qui ci sono delle scale Per andare per di là Prima Non riesco a passare Vediamo E qui Cazzo Due strade Oh merda Cos'è la tavola Braille No merda Oh Ho tolto il rubino E questa Si vai a leggere Le tavole Braille Aspetta Ma se io torno su Ah mi sa Che questo sono L'ordine alfabetico Cioè A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W E qui c'è X Y E Z Si sono giuste Usiamo un altro repellente Ok dopo questo ripasso Dell'alfabeto Possiamo tornare Si usa forza Però sono curioso Di vedere cosa c'è lì Ah lo so Cosa c'è C'è l'uscita di prima Vediamo Vediamo se ho ragione No Aspetta Esatto Perfetto Possiamo tornare Ehm A Primisola Ok E parlare con Ceglio Vediamo il nostro rubino Perfetto E il rubino c'è Si Esatto Un'altra gemma Che è lo zaffiro Però adesso Mi Aggiorna Il Tris pass A 7 pass Perfetto Quindi adesso Andiamo a vedere Le altre isole Andiamo a Quart'isola Per prima E vediamo un po' Cosa c'è Mi sfida Peccato Volevo fare una sfida Con lui Ci sarà uno strumento Qui Certo che Il ricerca strumenti Dinero 2 Veramente comodo Quello che sia Nel touchscreen La corrente Devo portare un po' Sare surf qui Mi servirebbe Uno spaccaroccia Beh non sarà Lo prenderò Quello strumento Senza reccare Ah qui c'è La pensione Pokemon Che dai due Pokemon Che nella regione Di canto C'era Solo quello In cui ne davi Uno solo Curi pokemon Dai per sicurezza Ok Vediamo un po' C'è cosa di interessante Adesivi Boh Uh Vediamo un adesivo Sala d'onore Ah scheda applicata Che cazzo è Ah eccolo qui Deve essere Quelli in alto a sinistra Molto probabilmente XD Uh lì c'è una sfera Ma c'è Surf vero Allora sì Scusate se entro Sempre nelle case Ma mi pare che qui Abiti esatto Abita allora Lei la super 4 Quella di ghiaccio Bronto boeing Sto facendo Corpo scontro Corpo scontro Le imparano tutti Molto utile Come mossa Victreebel Quasi quasi Frustata Sì dai Buona dai E tu cos'hai Ah no Sei solo un Stupido Npc Che non fa un cazzo Dalla mattina e la sera Andiamo a visitare La E che delizia Sono fatto una granita Grotta gelata È così rinfrescante Tua mamma è rinfrescante Ho usato repellente Ho usato repellente Ecco ora sì Mi sa che mi serve cascata Merda Aspettate Se io vado per di 15 Di fare cascata Cambia niente Ah queste sono le rocce Che devono essere Calpe I pezzi di ghiaccio Che devono essere Calpestati Solo una volta Ok Ah ma mi sa che devo cadere Forse da una parte Devo cadere per di qui Ah per di qui salgo Di qua Oh ma che casino ragazzi Io non ci farò mai a capire Aspettate Ah ma è una strada chiusa Completamente Sì guardate Io non posso muovermi assolutamente Vediamo Esatto Non si può Andiamo per di qui Ah ecco Ho scoperto l'arcano Se io faccio così Ok No C'è adesso modo per prendere Quella pokeball Per prenderla Devo fare Devo Ci capisco un cazzo No Sto sbagliando qualcosa No aspettate Uh Cascata Ecco dove era E chi cazzo sapeva Io quasi quasi ne insegno a A Kingler Che non può imparare Ovviamente Cadiamo qui Cadiamo Cioè Ah si c'era L'ho già preso Quello strumento E andiamo per di qui Allora Sì ho sbagliato Ah ma non Devo per forza fare così Ma mi sa che È opzionale Questa La Questa grotta Ah ho sbagliato Merda È l'unico giusto Quello Ah mi sa che È solo per prendere Quello strumento Allora Devo usare Devo insegnarvi Per forza Cascata Ah ma Allora sono un coglione Devo fare così Devo fare Ecco Gelomai Beh Bella merda Che ho preso Ok Così Si va Via Perfetto Non l'ho usato Repellente Muori Schifoso Golbat Mastardo L'userà L'acciaio Volevo usare Zaino Ah non l'avevo usato E niente ragazzi Mi servono Che bere Cascata Ma chi glielo insegno Strano che Qui non posso imparare Aspettate Aspettate C'è Sono Mona Proprio Polvostella Beh la posso vendere Ok Chi è che può imparare Cascata Ma Boh Io metterei via Dodrio Visto che l'hai nato Un bel po' Vieni qua Ma sono Mona Non avevo neanche Messo le ventole Ah finalmente Il compito Stava bollendo Allora Chi è che può imparare Cascata Lapras Sicuramente Ok Facciamo una prova Esatto Nebbia dai Perfetto Buon Possiamo tornare Non mi ricordo Se la grotta gelata È opzionale Però Mi sa che Non so come chiamare Questo episodio Troppo Sono successe troppe cose C'è il rubino La quartisola Rubino e grotta gelata Probabilmente Ok Vediamo un po' Oh bene Ecco qua Allora è lei Perfetto Esatto Fai una bella lotta Contro questo coglione Qui Zubat Muori schifoso Sotto frana Ti sta bene Bastardo Un altro Zubat Proprio la perseveranza È l'ultimo a morire Raga C'è un altro Zubat No Golbat Stavolta Non l'ammazzo mica Con frana E invece Sì ragazzi Mi sottovaluto Ok Sto leggendo Il magazzino Quint'isola Devo andare Grazie a questo orribile Sono andato su queste isole Tra l'altro Qui mi pare che c'è L'unica zona In cui hai un 5% di probabilità Di trovare l'Apras Se non mi sbaglio Vabbè dai Sì ma Un seal No dai Cazzo Frana è super efficace Ammazzalo Voglio fare Un po' di Big esperienza Ben No non basta Vabbè dai Allora usciamo da questa grotta Per questo episodio è tutto Ok Già usciti Già usciti Sì mi pare che in questa grotta C'hai In quella zona In quella zona ultima C'hai Il 5% di probabilità Di trovare Coso L'Apras Oppure Mi sbaglio con altro pokemon Dopo guardo insomma Devo andare sul sito Di pokemon center al wiki E scrivere Grotta gelata Prendiamo kingler Per questo episodio è tutto Ogni volta che visco un episodio Mi manca la voce Adesso bevo un bel po' di acqua Rinfrescante Che sto guardando Sto guardando con Sguardo ammiccante Va bene ragazzi Allora per questo 25 episodio è tutto Nel prossimo episodio Vedrò alla quintisola Dove c'è il magazzino E guardando un attimo La mappa Vediamo un po' Quintisola Grotta sperduta Labirinto marino Colomma rocciosa Non serve a niente Qui invece abbiamo Sale e flora Beh Cazzo Qui ci sono gli unon Qui c'è la torre Natori Qui c'è la cripta Dei punti Bosco disegnato E grotta mutevole Questi non servono a niente Però le visiterò lo stesso Si che mancano Le isole E poi manca Mewtwo E se riesco Provo anche a catturare Sui cune Quindi per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Pagina facebook Come al solito Di iscrizione Ciao a tutti ragazzi